Suzuki Comitti Not Only Buat e Lifestyle Volete anche voi personalizzare la vostra barca con una scritta luminosa come questa? Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale Boat's Name, l'unica azienda esclusivista del brevetto Amici di Non Solo Mare, sempre dallo Yachting Festival di Cannes Sono a bordo di una delle eccellenze del Made in Italy Comitti, un marchio storico della canteristica italiana Con me proprio Raimondo Reiner Questa è l'ultima, l'ultima nata in casa Comitti È l'Isola 33 che stravolge un po' il concetto a cui erano abituati A fianco invece abbiamo la linea classica, il Venezia 34 Che da sempre dà tante soddisfazioni in casa Comitti Qua avete fatto qualcosa che l'anno scorso avete presentato proprio a Cannes Quest'anno versione senza hardtop, quindi più aperta, più vivibile, ancora più alla luce del sole Senza hardtop e con un altro allestimento Quindi leggermente diversa da quello che abbiamo presentato lo scorso anno Francesco Un walk around puro, no? Sì, un walk around puro Diciamo, abbiamo cercato di distinguerci un attimo con le nostre solite funiture Diciamo in legno un po' più, per rendere la barca un po' più esclusiva Speriamo di aver fatto un buon lavoro E che venga Un anno di distanza dal suo debutto che è stato fatto proprio qua Allo Yachting Festival di Cannes Cosa si potrebbe dire di Isola 33? Perché so che poi sarà una linea che affiancherà la linea classica di Venezia Si può dire che la linea è stata molto apprezzata nei luoghi in cui speravamo di entrare Dove la barca ha il suo abitato naturale, quindi nelle isole in Spagna Ha ricevuto numerosi consensi E oltre alla versione fuori bordo adesso stiamo sviluppando anche la versione entro fuori bordo Quindi stiamo già dando anche la doppia opzione perché abbiamo richieste sì anche in questo senso L'anno scorso quando l'hanno vista e noi l'avevamo detto subito Forse per il layout che cambia un po' da quello che è il classico di Venezia Tutti hanno detto ma come naviga bene, ma che bella carena Possiamo dire che in fondo la carena è proprio quella di Venezia Sì, no, esattamente la carena è esattamente la stessa Quindi le doti di navigabilità sono pressoché identiche Ovviamente ci sono state opportune modifiche per adattare la nuova coperta Per bilanciare i pesi E abbiamo comunque mantenuto nello scafo la nostra linea classica Con questa linea particolare dei runabout Quindi la svasatura anteriore, l'avvittamento nell'imbarcazione Quindi diciamo che comunque segue il nostro filo conduttore Infatti io lo dicevo apposta perché molto spesso magari vedendo l'imbarcazione classica come il Venezia Si nota meno la sua sportività perché è molto elegante Quindi nasconde le sue doti marine che invece sono le stesse viste sull'isola Perché poi, ripeto, siamo lì, la carena è più o meno simile Quindi ieri l'abbiamo vista dall'elicottero Tutte e due affrontano il mare Anche ieri c'era anche un mare abbastanza formato Entrambe si comportavano molto bene Però questa forse passava, dava più all'occhio Perché il layout stesso del walk around lo fa sembrare quasi un fisherman Quando si affronta un mare formato Sì, assolutamente Nell'uscita di ieri quando abbiamo fatto queste riprese con te dall'elicottero E tu dall'elicottero magari lo vedevi piatto Ma non era assolutamente Ma l'abbiamo visto che era formato sino 8 Ok, no, la barca si comporta bene Ripeto, abbiamo avuto successo dove volevamo Quindi nel mercato di riferimento di questo prodotto E continuiamo così Adesso speriamo nella versione entro fuori bordo Quali sono i paesi che più sono portati al walk around Che in qualche modo richiama anche un po' il concetto del fisherman Perché poi questa imbarcazione è molto elegante, molto rifinita Però sappiamo che con poco diventa un fisherman d'alto livello Quali sono i paesi che magari vanno più in questo utilizzo di imbarcazione? Sappiamo che l'Italia la pesca è molto forte Però è un paese dove ancora magari si tende a farla con mezzi più Ecco, questo è un mezzo importante l'isola Sì, allora il mercato di riferimento sono le isole baleari Il motivo per cui è il nostro mercato di riferimento È proprio per la tipologia di cliente che fa le sue vacanze su queste isole È un cliente che ama qualcosa di bello Ma nello stesso tempo vuole qualcosa di funzionale, di pratico Che possa servire per la giornata Difficilmente c'è anche chi cerca barche più grosse per poter dormire Per poter fare proprio una vacanza in barca Ma in linea di principio in questo luogo Le persone vogliono uscire e godersi la giornata all'aperto Quindi la barca è vivibile in tutti i propri spazi Infatti non abbiamo dotato la barca di una cabina Ma abbiamo dotato di una confortevole toilette E poi, vabbè, ovviamente è una barca veloce Quindi si possono raggiungere le varie calette, vari posti Velocemente A velocità di crociera si viaggia dai 32 ai 35 nodi Quindi con consumi tutto sommato più che accettabili Quindi diciamo lì è proprio dove la barca ha avuto successo E quindi diciamo siamo soddisfatti di quello che rappresenta Isola Quello che rappresenta Isola Venezia 34 io direi c'è poco da dire Perché la conoscono molti Ormai l'hanno vista in tutte le sue versioni Però è una barca che nonostante passino gli anni È sempre una barca che piace a tutti Coloro che vengono poi anche all'Oviato in festa Ma molto apprezzato proprio lo stile Comitti E lì si richiama proprio lo stile Comitti 34 è la nostra barca, attualmente è la nostra barca più grossa L'abbiamo venduta un po' in tutto il mondo A differenza dell'isola che è più focalizzata in un mercato Tipo quello delle Bariari 34 invece si presta ad essere apprezzato in diversi territori Gli Stati Uniti, piuttosto che la Spagna stessa Comunque l'Italia Siamo andati fino a Hong Kong Adesso dobbiamo mandarne una alle Barbados Quindi insomma La barca è apprezzata Possiamo motorizzarla sia benzina che diesel Però sarà sempre rigorosamente entro fuori bordo Non avrà motori fuori bordo Quindi su questo siamo sicuri Una barca importante però per chi magari non può arrivare al 34 Abbiamo visto anche il 31 Una barca che da pochi anni è sul mercato Una versione che mancava Una dimensione che mancava Che però sembrerebbe forse proprio la dimensione ideale Perché il 34 è l'ammiraglia Il 31 direi che per gli spazi che offre è veramente una bella barca Allora diciamo gli spazi offerti all'esterno del 31 sono pressoché uguali a quelli del 34 Chiaramente è sacrificata e rimane più sacrificata la cabina Il 31 ha avuto un discreto successo anche perché ha un prezzo secondo noi molto interessante La barca naviga molto bene Abbiamo avuto positivi test Abbiamo avuto sempre commenti molto positivi su questo Penso che poi il nostro vantaggio che sia un po' poi la nostra filosofia È la personalizzazione di tutti i nostri modelli Quindi si può scegliere l'essenza di legno per la cabina Ci sono tre allestimenti Si può avere con il tech, con il mogano Insomma l'armatore può costruirsi la barca seguendo i propri indirizzi In più adesso diciamo anche il layout interno della cabina non è fisso Quindi c'è chi per esempio sul 34 ci ha chiesto di non avere il letto di prua Ma di avere un grande divano con un grande tavolo Quindi un armatore ci ha chiesto di ristudiare tutto l'interno Per lui facendo gli interni interamente Sono interamente fatti a mano Noi abbiamo la possibilità di modulare e di assecondare tutte le richieste del cliente Nei limiti tecnici ovviamente Direi che Questo è un aspetto importante che io volevo sottolineare Non è soltanto il fatto appunto di personalizzare la barca Cosa che molto spesso sentiamo dire Girando poi i vari saloni tutti offrono la personalizzazione È la personalizzazione di materie particolari Quindi materie prime di prestigio che richiedono lavorazioni particolari Quindi non è semplice a volte proprio per il prestigio dei materiali che si vanno a lavorare Soprattutto parliamo del mogano Ecco quando si va a intervenire su quello che non è uno stampino Ma è una lavorazione completamente artigianale Non sempre è facile accontentarlo il cliente Voi ci riuscite da tanti anni Questo è uno dei lati di forza della Comit No non è facile accontentare il cliente Non è facile gestire la produzione Perché se andiamo fuori dagli standard cambiano i tempi Cambiano le logiche Cambiano gli approvvigionamenti Quindi non è semplicissimo Però noi abbiamo scelto questa impostazione Questa strategia E proseguiamo lungo questa strada Per ora siamo soddisfatti così Allora noi ringraziamo Raymond Orenio per il tempo che ci ha dedicato Proprio durante l'Oriott in Festival di Cannes Facciamo i complimenti come sempre Per tutto quel bel lavoro che voi fate E che ci rende appunto orgogliosi di essere italiani Diamo appuntamento a queste fiere internazionali E soprattutto al Boato Dussendor Che sarà insomma ormai il Salone d'Europa Dove penso lì verranno un po' da tutte le parti Perché Dussendor è diventato il Salone di riferimento europeo Quindi li vedremo tutti a Dussendor E noi vi lasciamo lavorare Grazie ancora di tutto e complimenti E grazie a tutti Ciao Raymond Ciao E sempre girando per lo Yachting Festival di Cannes Siamo rimasti subito colpiti Un po' incuriositi anche Da quello che vedete alle nostre spalle Poco fa era montata la poppa Dell'imbarcazione Cannes e l'Yacht Questa piscina Questa piscina naturale Perché è una piscina che si forma Con l'acqua di mare Convece proprio colui che l'ha pensata Progettata, brevettata A livello internazionale Paolino Napolitano Tanto il cognome richiama una bellissima città E sei di Napoli Sei nella zona bellissima di Napoli Baccoli Ecco questo nasce da tanti anni fa Questo progetto Quest'idea Di fare una piscina Che io ho letto subito due cose importanti Tutti quelli che passano I bambini sono al sicuro Ma anche noi adulti Che ultimamente abbiamo queste meduse Che un po' ovunque compaiono E qua le meduse non entrano Perché qua c'è l'acqua del mare Quindi in questo momento l'acqua che vediamo all'interno È la stessa acqua che c'è in marina Ovviamente sembra un altro colore Perché l'acqua entrando È filtrata da questa rete Che è il fondale della piscina E poi ovviamente c'è il fondale che è chiaro E quindi assume una colorazione diversa Da un'idea di un'acqua più pulita Non siamo nella caletta della Sardegna O a Ischia Però già hai cambiato colore Sì, sì, sì L'idea nasce dal 2010 Quando abbiamo pensato di realizzare Uno specchio d'acqua circoscritto A poppa via dell'imbarcazione In modo tale che le persone potessero fare il bagno In tutta sicurezza Ecco, intanto mi dicevi che questo è un modulo Che è il più piccolo No, è la via di mezzo questa Questo qua è il modello L Ecco, voi avete diverse misure Abbiamo diverse misure Abbiamo misure che vanno dallo smollo Fino ad arrivare all'extra-extra-large E che si adattano ovviamente alle poppe di diverse imbarcazioni Sì, in funzione della larghezza dell'imbarcazione Poi in due minuti Ho visto che adesso è già montata L'avete gonfiata stamattina Però con un gonfiatore qualsiasi Di quelli che si usano per i tubulari Ma veramente in due minuti si è gonfiato E si è formata da sola Perché si forma da sola Non dobbiamo montare nulla Sì, sì, sì Attacchiamo il gonfiatore? Fa tutto il compressore Il compressore gonfia e sgonfia Un normalissimo compressore Per gommoni o giochi acquatici E questo diventa piccolo Abbiamo visto che la borsa è davvero Neanche una zattera Le borse sono borse che vanno dai 65 cm Fino ad arrivare agli 85 cm di larghezza Quindi la stiviamo in qualsiasi gavone Sì, sì, sì Hanno le dimensioni più o meno come una zattera di salvataggio Quando bisogna stivare Anche i pesi sono molto ridotti Perché andiamo dai pesi dai 10 kg Fino ai 20 kg Per il modello di punta Che è l'XXL Ecco, mi dicevi Poi tra l'altro Quello che c'è in mezzo Non è un isolotto felice Per giocare con i bambini È un galleggiante Che stabilisce Se vogliamo Un fondale di un metro e venti Oppure tenerla meno profonda Per i bambini piccoli Esattamente Il galleggiante centrale Serve appunto Per regolare la profondità Possiamo avere Una profondità minima Di 80 cm Fino a un massimo Senza l'utilizzo Del galleggiante centrale Di un metro e trenta Quindi possiamo anche toglierlo proprio Togliendolo Abbiamo tutta la piscina libera Con un fondale Leggermente più alto Ma è un metro e trenta Quindi comunque In sicurezza per tutti E poi questo fatto Che appunto Protegge dalle meduse Perché E protegge non solo Dalle meduse Io direi anche Da quei diportisti Che ogni tanto Si avvicinano troppo Velocemente Alle nostre poppe Perché a chi si tuffa E si allontana Di qualche metro Dalla propria imbarcazione Rischia a volte Purtroppo E proprio così Le meduse principalmente Ma anche per i bambini Che hanno questo specchio D'acqua circoscritto Possono giocare Possono passare una giornata Di relax Anche gli adulti Perché Si può camminare Senza nuotare All'interno Della piscina Io quando l'ho vista Vedendolo vicino A Revolution Che tra l'altro È un amico Edoardo Pensavo fosse qualcosa Cosa destinato A imbarcazioni importanti Ecco da qui A salire Invece tu mi hai detto Che effettivamente Mi hai convinto subito Che anche con un gommone Può essere utile averla Perché è vero Che poi Chi ama nuotare È libero di scavalcare Il bordo E andarsene Però i bambini Chi non sa nuotare Molto bene C'è gente che ha paura Dell'acqua alta Chi ha paura Delle profondità marine Che ce ne sono tanti Pur sapendo nuotare Ma È una piscina nostra Allegata all'imbarcazione È come essere in hotel E la della piscina Noi ce l'abbiamo A pompa della nostra imbarcazione Sì 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 Ce l'abbiamo a pompa Dalla nostra imbarcazione Inoltre il fondo Volevo specificare Che il fondo È formato da un materiale Un PVC mesh Dove l'acqua circola Naturalmente all'interno È piombato In modo che il telo Di PVC Scende nell'acqua E le persone Possono tranquillamente L'acqua sarà sempre Un'acqua nuova Non è l'acqua No no Assolutamente L'acqua del mare Non bisogna riempirla In quanto si riempie da solo Perché il fondo è microforato I fori sono da circa 2 mm Fondamentalmente È come se abbiamo calato Una rete Per tenere il nostro pescato In questo caso Peschiamo noi stessi Gli esseri umani Siamo noi che ce la godiamo Però il concetto è lo stesso È una rete Fondamentalmente Però è una rete Molto resistente Mi dicevi Addirittura si può camminare Sul fondo Quindi si ha la sensazione Che si cammina sul fondo Sì 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 Si cammina proprio Senza nuotare Non c'è bisogno È molto in tensione Sì perché è in tensione Poi ha un aspetto Di fondo semirigido Dove puoi tranquillamente Camminare Puoi prendere un drink Puoi fumare anche una sigaretta In tutta tranquillità E quindi passare Una giornata di relax Senza pensare sempre A nuotare A nuotare Perché poi dopo Uno si stanca E quindi ha bisogno Anche di salire in plancetta Ultima cosa Non è un prodotto cinese È un prodotto made in Italy I materiali utilizzati Sono materiali Che mi dicevi Importanti Non è PVC Quello che poi Buttiamo via Dopo l'anno dopo No assolutamente Assolutamente Sono dei tessuti Il fondo viene prodotto In Germania E tutti gli altri Componenti Sono tutti made in Italy E anche la manifattura È made in Italy Diciamo allora Per saperne di più Per chi si è incuriosito Vedendo le immagini E volesse un contatto diretto Qua abbiamo visto Sono esposti un po' tutto Ci sono numeri telefono Sito Può collegarsi Al nostro sito Che è Magic Swim Dove ci sono tutti i riferimenti E può fare una Qualsiasi domanda Siamo a disposizione Per tutte le domande E per tutto quello che concerne Avete capito Magic Swim Andate anche nel sito E trovate tutto Paolino vi sarà Per dare tutte le risposte Che vi potete porre Io me ne sono poste Ma risposto a tutto E effettivamente mi ha convinto È un qualcosa che funziona Ciao Paolino Saluto tutti gli amici Di Non Solo Mare Ciao a tutti E ci vediamo alla prossima E allora amici di Non Solo Mare Yachting Festival di Cannes 2018 Qua siamo vicini a una delle due anteprime Che vi avevo annunciato Quest'estate Con me e Salvatore Ranieri Qua dietro ci abbiamo la Next 220 Per la prima volta Fa il debutto davanti al grande pubblico Dopo che l'avete fatta vedere Diciamo amici intimi E persone vicine a voi Giornalisti Però qua il grande pubblico di Cannes Ha potuto avvicinarsi A una delle due anteprime Ranieri International La Next 220 Una barca che Noi siamo rimasti subito sorpresi Perché regala Grandi soddisfazioni Belli spazi Che siete riusciti a fare Un miracolo Su una 220 Abbiamo quasi tutto quello Che abbiamo anche sull'A240 Questa è una delle due Poi in acqua C'è il Cayman 38 Sì Cannes Yacht Festival La location Per le nostre Anteprime mondiali Appunto Il Next 220 E il Cayman 38.0 A Soverote abbiamo già visto E provato In maniera informale Se vogliamo Entrambi i modelli Ma questa è la vera prima Presentazione ufficiale Quindi una barca Che risulta essere oggi L'entry level Della linea Next Una barca di 6 metri e 30 Come omologazione Ma fuori tutto Oltre 7 metri Quindi una barca importante Una barca per iniziare Ad andare per mare Una barca dove gli spazi Sono stati realmente Studiati E sviluppati Credo nel miglior dei modi Come dicevi Pocanzi All'interno Ha un'abitabilità Fuori dal comune Su barche Di questa categoria Ecco Noi l'abbiamo vista Già a Soverato Oltre quello che è Lei auto esterno C'è poi sotto coperta Tre posti letto Ricavati su 22 piedi Penso che sia un record Sì È l'unica della categoria Di avere una cabina Con tre posti letto Direi anche abbastanza comodi Un pozzetto esterno Ben sviluppato Con delle panchette Ad incasso Nella murata Quindi Un pozzetto All'interno del quale È possibile Montando un tavolo centrale Riuscire a stare seduti Comodi Almeno 6-7 persone Diciamo che Sono delle cose Fino a poco tempo fa Impensabili Su una barca così Tra virgolette piccola Non posso farti il nome Ma prima girando Per il Yachting Festival di Cannes Mi ha fermato Una persona Diciamo Un addetto ai lavori E mi ha detto Non è che riesci a farmi sapere Chi fa le tapesterie Della Arena International Gli ho detto Guarda se le fanno loro Questo era un personaggio Che insomma È rimasto colpito Perché sono cucinerie Particolarmente curate Ecco Sono questi alcuni dei dettagli Che fanno La Arena International La fanno diventare Un'azienda di riferimento E che persone Quelle più attente Si accorgono poi Delle differenze Quando Perché un cuscino Può sembrare uguale No Perché ci sono tanti cuscini In giro Cuscinerie se ne vedono tante Queste sono cuscinerie Fatte dalla Arena International Quindi curate da voi Personalmente Avete un reparto Dedicato a questo Sì Noi sviluppiamo il progetto Dalla A alla Z Quindi dal progetto Al prototipo Allo stampo E quindi alla costruzione Integrale Sia delle barche Che dei gommoni La tappezzeria Il reparto tappezzeria È uno dei nostri Settori Interni all'azienda Che ormai Da oltre 20 anni Gestiamo direttamente Quindi Scegliamo La qualità Il design Soprattutto persone Persone che lo fanno Da tanto tempo Persone che sono Della Ranieri International Cresciute con voi Quindi un'esperienza Che hanno maturato Anche proprio Nelle cuciture Nella lavorazione Perché poi Non è solo la materia Prima che voi Scegliete Ovviamente di qualità Ma sono anche poi Le lavorazioni Di tutta quella Maestranza Che voi avete All'interno dell'azienda Il reparto Io l'ho definito Reparto Sartoria Lì sono veramente Persone che sanno Fare dei lavori Che noi Quando andiamo dal Sarto E quando ti sistemi La camicia Ecco il Sarto bravo È il Sarto bravo Sì Diciamo che il 70% Delle nostre maestranze Sono appunto Persone Con esperienze Ventennali Anche oltre Anche trentennali Con noi Quindi Ogni nostro reparto Dallo stampaggio Al montaggio Alla tappezzeria Sono tutti I reparti Ormai Gestiti E condotti Da anni Da persone Molto affidabili Molto preparate Selezionate Nel corso Di 40 anni Di produzione nautica Tenevo a dire questo A far sottolineare Questi dettagli Perché adesso Questo è stato Un aneddoto vero Mi ha affermato davvero Una persona Ha detto ai lavori Un cantierista Che voleva sapere Il nome del fornitore Gli ha detto Non c'è un fornitore È l'Arania International Che li produce internamente Perché? Perché quando si avvicinano Alle imbarcazioni Qua c'è anche il prezzo esposto Qua almeno Per il mercato francese Abbiamo visto Sotto i 45 mila euro Circa col motore Questa barca Viene consegnata Tutto compreso Ecco Quando si guarda Un prezzo Bisognerebbe poi Analizzarlo bene Non è solo La larghezza E la dimensione E la lunghezza Della barca È tutto ciò Che viene fatto All'interno Per costruirla Quindi Quello che non si vede Quello che poi Noi abbiamo visto Soverato Quando la barca È ancora aperta Quando ancora Stanno finendola Tutta l'impiantistica Quindi la parte idraulica Parte elettrica E soprattutto poi La scelta Delle materie prime E delle lavorazioni Ecco Perché la materia prima Bene o male è in commercio Quindi uno può anche copiare Andando a comprare Lo stesso tessuto Ma la lavorazione È la mano d'opera Che cambia Io credo che ogni creazione Ogni barca Ogni creazione Sia fatta da dettagli È il dettaglio Alla fine Che fa la differenza Ogni nostro dettaglio È stato comunque Pensato Studiato Messo a punto Prima di essere Quindi creato Dall'acciaio Alla tapezzerie Alle carene A tutto ciò Che alla fine Compone L'imbarcazione O il gommone Nello specifico Tutto Nulla è lasciato al caso Quindi tutto È ben studiato È ben progettato a monte Hai parlato del gommone Cayman 38.0 Noi oggi L'abbiamo ammirato Apprezzato Dall'elicottero C'era anche un po' di mare Quindi hai potuto Testarlo anche Diversamente da Soverato Che ci ha concesso 20 giorni splendidi Dove veramente Era un piacere Andare per mare Perché ci siamo goduti Aperitivi a bordo Bagna A non finire Qua hai potuto Metterlo Insomma un po' Alla prova Edi tu Alla guida Le tue impressioni Diciamo che Anche a Soverato C'era stato un modo Durante due giorni Circa Di vento formato Di testarlo Con del mare Diciamo non calmo Anzi abbastanza mosso E già lì Ci eravamo fatti L'idea Di come la carina andasse Oggi Avendo navigato Diverse ore Sia per il nostro servizio Sia ancora prima Per altri servizi Ci siamo effettivamente Per la coda che c'era Perché tantissime persone Hanno voluto provarlo Quindi qui c'erano I clienti veri Quelli che poi Decidono di acquistarlo E quindi avete fatto Una giornata intensa Sì Diciamo che oggi Al termine di Diverse ore di navigazione Con mare direi Abbastanza formato Diciamo che oggi Siamo tutti Un po' abbastanza provati Però devo dire che Le impressioni Di oggi Sono state Devo dire Positive Tutti coloro Che hanno provato Il gommone Sia i clienti privati Sia i giornalisti Sono rimasti A loro dire Incantati Per come il gommone Naviga Per come si comporta Con il mare formato E soprattutto Per il grado Di sicurezza Che in determinate Condizioni Il gommone Ti dà Infatti noi L'abbiamo Pestato per 20 giorni Abbiamo potuto fare I riportisti A bordo del Cayman 38.0 Un mezzo Che noi abbiamo Definito maschio Perché quando c'è La prestazione Quando si chiede Sia la prestazione In termini velocistici Ma anche Quando c'è da affrontare Insomma Navigazione impegnativa Si esce il carattere Maschio del Cayman 38.0 Però molto donna Invece per quanto riguarda Tutto quello che è La vita A motori spenti Avete un layout Eccezionale Le donne che sono salite A bordo Compresa la squadra Del volley di Soverato Che avete portato A fare un bel giro Con il Cayman 38.0 Ecco Soddisfatte tanto Molto Soprattutto le donne Sappiamo quanto È importante Poi nel momento In cui si decide Di acquisto di una Imbarcazione O di un gommone Anche il parere Della donna Perché poi Incide molto E influenza molto La scelta dell'uomo Io ritengo Che il parere Di una donna Nella scelta Di un'imbarcazione O di un gommone Vaga almeno Il 90% Perché all'uomo Lasciamo un 10 Sì Diciamo che alla fine È la donna che sceglie Il nostro prodotto È sempre stato apprezzato E quindi scelto Dalle signore Quindi dalle donne Probabilmente Per la cura Che noi abbiamo sempre dato Nei dettagli Nelle rifiniture Nella qualità Dei materiali utilizzati Oltre chiaramente Nella qualità Delle lavorazioni Effettuate E quindi ritengo Che il primo colpo d'occhio Quello femminile Sia decisivo Per un futuro acquisto Allora Questa squadra vincente Vi aspetta Tutti al Sonone Nautico di Genova Dopo il Festival All'Hotting Festival di Cannes Terminerà domenica Avrete 2-3 giorni Per spostare tutto Anzi so che alcune barche Poi rimangono qua Perché ormai Sono venute nel mercato francese Quindi insomma La linea international Di barche in Cino Ne ha davvero tante Quindi penso che Di due eventi Ormai ce ne sono già parecchie Che stanno circolando Perché molti concessionari Ovviamente appena L'hanno vista uscire Ve l'hanno chiesta Quindi non saranno Le stesse imbarcazioni No assolutamente no La barca E la 220 per Genova Parte oggi Mentre nei prossimi giorni Partirà la 220 Per la Rochelle Che inizierà Il 26 settembre Quindi Il giorno dopo Il salone La chiusura Del Nautico di Genova Noi ripartiamo Con un'altra fiera Appunto La Rochelle Dove lì ci sarà Un'altra Next 220 Oltre chiaramente Al resto Di buona parte Della gamma E soprattutto Tutta la famiglia Ranieri Sappiamo che All'Hanno in Nautico di Genova C'è tutta la famiglia Arriva anche Papa Pietro Quindi avranno modo Anche di avvicinarsi Conoscere Colui che ha fatto sì Che tutto questo fosse possibile Ha messo al mondo Salvatore Antonio Ranieri Papa Pietro sarà con noi All'Hanno in Nautico Molte persone che magari Conoscono la storia Verranno anche solo Per salutarlo E per apprezzare Tutto quello che voi state facendo Per voi Per Soverato Per la Calabria E soprattutto Per tutti noi italiani Che siamo orgogliosi Come ve lo dico sempre Di essere rappresentati Da aziende come L'Arena International In tutto il mondo Ormai è iniziata per voi La stagione delle fiere Sarà bello ogni tanto Venire a trovarvi Anche in giro per il mondo Ma Genova rimane Il salone di casa Penso che lì Veramente ci sarà Tutto lo staff Perché è la famiglia Ranieri Con tante persone Che fanno parte Proprio della famiglia Ranieri Intesa come azienda Ranieri International Sono in Nautico di Genova Dal 20 al 25 settembre Noi qua in questo momento Siamo all'Iotti Festival di Cannes La puntata andrà in onda Mercoledì prossimo E quindi voi lo state vedendo Mentre sta per iniziare Il salone nautico Domani praticamente Vi aspettiamo Al salone nautico di Genova Ciao Salvatore Ciao a tutti da Cannes E vi aspettiamo Al salone nautico di Genova Settimana prossima Dal 20 al 25 settembre Ciao Ciao Pazzi incredibili Su come vedete 6 metri e 20 Perché ricordiamo Il salone nautico di Genova Suzuki Su zuzuki Grazie a tutti.